Il tipo di pensiero estroverso è un tipo che cerca e persegue una formula. La formula deve avere validità universale. Egli si piega alla formula, il suo ambiente deve piegarsi alla formula. I suoi ideali sono giustizia e verità. Allora che ruolo ha nella società? Un uomo di questo genere, un uomo di pensiero estroverso, può essere un riformatore. Qui badate, Jung non fa questo esempio, ma mi è venuto in mente Calvino. Ora voi siete per la maggior parte persone cattoliche, per la maggior parte. Poi ci sono altre religioni anche come minoranza. Però la riforma protestante l'avete sicuramente studiata al liceo, alla scuola superiore. E chi poi ha studiato storia all'università, anche all'università. Ebbene, Calvino è stato un riformatore ed è veramente un esempio di pensiero estroverso perché, per esempio, l'arte, soprattutto le immagini sacre, quindi l'arte nel cristianesimo, per lui era da bandire. Il sentimento è in latenza, ma anche gli aspetti estetici sono orpelli per il pensiero estroverso.